Romina Power condivide con i fan la sua felicità e lo fa attraverso un post sui social che è diventato virale, mai visto uno spettacolo cosa. Romina Power una cantante molto nota e di fama internazionale che ha fatto la storia della musica italiana. Ex moglie di Albano, insieme all'artista pugliese hanno dato luogo a performance senza precedenti e in tanti sperano che possa esserci un ritorno da un punto di vista professionale. Oggi la Power oltre a dedicarsi alla musica, segue anche altre passioni come la natura e non trascorre molto tempo con la sua famiglia che sempre l'ha pronta a supportarla e sostenerla. Romina Power, il periodo pia bello dell'anno arrivato foto. Ultimamente molto attiva sui social dove non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Con intraprendenza, determinazione e passione, ha sempre saputo cosa conquistare e continua a farlo anche oggi. Finalmente per la cantante è arrivato il periodo pia bello dell'anno e per questo condivide con i follower alcune foto del momento magico, la primavera. Cosa tra uno scatto di fiori, uno di piante e uno di un viale meraviglioso, scrive che I fan non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi come Maggiore 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 La Power sa come attirare l'attenzione dei fan e lo fa costantemente con la giusta grinta e eleganza che solo lei ha. Unica e inimitabile in tutto, la cantante non ha bisogno di filtri, la sua semplicità la ha sempre contraddistinta. Grazie a tutti.